Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il piano di difesa della costa va avanti. Il progetto iniziale è stato modificato e ora la Regione Abruzzo ha comunicato ufficialmente che la realizzazione delle barriere rigide orizzontali partiranno, dal prossimo anno, da Villa Rosa di Martinsicuro fino a Giulianova. La rassicurazione giunge dal sottosegretario alla Regione, Umberto D'Annunzis. La Regione Abruzzo si è dotata di un piano di difesa della costa. Avvicino a questo piano di difesa della costa ha già effettuato degli interventi di difesa e questo piano prevedeva gli interventi in Alba Adriatica, interventi che sono stati concordati con l'amministrazione comunale e con gli operatori. Adesso, dopo l'intervento di questo inferno per la messa in sicurezza degli stabilimenti balneari, anche questo concordato con gli operatori e con l'amministrazione comunale, si sono tenuti dei tavoli, a cui ho partecipato anche io, e nei quali abbiamo definito la programmazione per il futuro. Adesso ci saranno degli interventi per garantire che la stazione balneare 2023 possa essere esercitata da tutti gli stabilimenti e poi all'interno della programmazione 21-27 verranno reperite le risorse per avere delle barriere rigide, orizzontali, lo ripeto, rigide, orizzontali, da Villa Rosa fino a Giulianova. È chiaro che già adesso abbiamo provveduto a modificare le schede del piano di difesa della costa e dietro mio indirizzo è stato dato ai progettisti l'incarico di provvedere alla realizzazione di questa modifica. Nel frattempo, tanto a Martinsicuro quanto ad Alba Adriatica, i fondi stanziati prevedono piccoli interventi salvastagione che consistono in opere di ripascimento e livellamento dell'arenile e nel caso di Alba Adriatica al riposizionamento dell'aradente per consentire l'accesso in acqua ai bagnanti e proteggere la spiaggia dalle potenziali mareggiate.